Sbloccare già dal 1 settembre il piano assunzioni da 2.563 unità di personale partendo con bandi di mobilità e concorsi. Lo ha chiesto l'assessore alla salute e ai direttori generali delle ASL pugliesi. Restano le risorse concordate con i ministeri a Roma, ha specificato Pentassuglia che ha vietato splafonamenti, bocciata la richiesta della BAT che chiedeva 25 deroghe in più. In primo piano il caso internalizzazioni sanitarie. Nei vertici coi referenti delle società in ausi, sindacati autonomi hanno ribadito la richiesta del contratto full time, 36 ore, per le circa 6.000 unità di operatori assunti in Puglia a prescindere dai fabbisogni lavorativi. La grana principale su Lecce dove le parti sociali rivendicano l'aumento delle ore per 538 degli 839 dipendenti. Inoltre nuovi servizi da internalizzare, informatica, assistenza domiciliare, 118 come accaduto su Foggia e da ultimo le assunzioni al nuovo ospedale della Murgia carente su ausiliariato, pulizie e guardiania. I sindacati vogliono rivedere gli indirizzi regionali sulle internalizzazioni sanitarie fissate nel 2013. Pentassuglia è favorevole ma prima di sbloccare nuove risorse vuol vederci chiaro sui bilanci delle società in house. Nelle prossime settimane arriveranno i resoconti finanziari richiesti. In base a questi e alle nuove esigenze di ospedali e ambulatori dal primo settembre si stabilirà il da farsi.